Io sono la Genji e io sono Iva e insieme facciamo Genji Iva. Siamo felicissime di poter essere qui con voi oggi a brindare. Sapete perché? In questo posto bellissimo a Monastier abbiamo finalmente trovato il nostro spazio ideale per montare le nostre casette. Siamo Girovache e cerchiamo spazi sempre nuovi per raccontarvi delle storie. Questa è la storia di Michi Rimella, Sanami, Bonaccio e Porta Bella con il tutto belle. Perché? Ma come sarà l'aria in un altro posto? 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 Grazie a tutti. Sul polone, a rene posi un pasticcere, un passo. Principessa Pajur, amica mia, ma perché siete tutta così agitata? Amico Spavetta Pajur, hanno rubato il mio mantello magico. Oh, principessa, sul polone, io veramente non me ne sono accorto. Guardo un po' di tempo, ho sentito dire proprio che in questa casa ci sta un nostro luogo. Spavetta Pajur, spaventa il principe dei rifiuti. Questa è il principe, deve avere al suo pianto una bellissima bruci-bruzza. Io devo tenere quel mantello, io sono il principe e la principessa mi laverà con il sogno. Signor Toni, è un attimo di pazienza che adesso ricordo. Signor Toni, è un attimo di pazienza che adesso ricordo. Eccomi qua, aspetta perché cava lì un corpo. Eccomi ciò, parola, cosa che sei l'altro? Signor Toni, è un attimo di pazienza. Signor Toni, è un attimo di pazienza che lavava i mantelli per i fioretti della città. Vantello fa quasi di da trovare. Sto vantello già era nascosto quando aprì. E se ha il cabello? Anitta, ma se proprio questo? E ma te che voglio fare un carro? Sì, proprio questo? Ma sì! Va subito a stenderlo sullo stendi-patti. Ma insomma, potete vado più dire quello subito? Ah, streghetta, ma che non ne capite più una come questa? Sì, ho capito che hai detto di metterlo sullo spaventa-passeri. Sì, ten' se ne accorto? Sì, ten' se ne accorto tutti. Sì, ten' se ne accorto tutti. Ciao, ciao! Sarò io il primo neccepare la sforzo la manca. Oh, no, 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 no. Lo fai spaventato, Ma che succede? Aiuto! I contanti! Ma che succede? Ma cosa mi è successo? Mi sento così, leggero e trasparente. Ma dove è andato a finire il mio padre? Mi si sono spuntati i figli! Questa è la voce di Orasio che mi ha detto a parte! Orasio! Orasio! Ma quello è il mio bandello! Ma tu chi sei? Principessa, voi non mi crederete, ma io sono il vostro amico, Orasio! Lo spaventa passoli! Devo avere un conto circunio! Oh, principessa! Ascoltatemi! Ma da quando il vostro mandello è caduto sulla mia testa, Io mi sento di orasio! Credo di essermi trasformato in un principe! Principe? E che? Certo è vero! è il mattino gengina gengina è bravo di svegliarsi è il mattino gengina buongiorno buongiorno hai compito bene? insomma ho fatto tanti soffi movimentati e poi ho detto gran set pensate che ho sognato che tutte le mie belle bottigliette si erano trasformate in una bellissima regina che bello che ci pensi che bello che bello che bello che bello che bello che bello